Monset, David Monset, avvocato. Visto che siamo in argomento, poco fa Paul ha detto una cosa che mi ha... Ha detto che ha fatto l'impensabile per salvare il nostro posto. Cosa vuol dire? Quando ero in polizia ho interrogato quella carogna di Livriga Arnag. Faceva la sua faccia quando si ostinava a negare i fatti. Di colpo alla pressione bassa. Beh, credo che dovremmo cambiare atteggiamento, Nadia. Grazie, Giorgio. Prego. Allora, tutto è partito da una delle famose deduzioni di Monset. Sì, dunque, ho piratato il sito della sicurezza sociale, ho verificato una mia intuizione. Bastian Cudret ha effettuato uno spermiogramma presso il laboratorio di analisi dell'Odeon subito dopo il matrimonio. Ora, ovviamente, sul sito della sicurezza sono presenti soltanto i nominativi dei pazienti, non i risultati. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ho appuntamento, Monset, David Monset. Ho appuntamento per uno spermiogramma. Ha osservato tutte le condizioni? Astinenza sessuale da almeno tre giorni. Sì, non è stato facile, ma direi di sì. Nessuna eiaculazione nel frattempo? Questo non lo posso dire perché non gli sto sempre dietro. Scusi, mia moglie, ma a lei piace sempre scherzare. Perfetto, vado in quella stanza. Signora, lei lo può accompagnare. Cioè, se lo desidera? No, no, non vorrei deconcentrarlo. Già, giusto. E poi ci saranno delle riviste, immagino. C'è tutto ciò che serve. Bene. Allora vado. Buon divertimento, caro. Per questa missione possiamo dire che Monset ha dato tutto se stesso. Mi mette in imbarazzo, Nadia. Diciamo che ci ha dato dentro. Basta così. Tanta roba. Le chiedo di smetterla. Non è obbligato a darmi i dettagli? Certo. Signore? Sì? Va tutto bene? Ah, sì, 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 sì. Dica a mia moglie che arrivo. Vado a dirglielo. Aspetti! E allora i risultati? 1,5 millilitri, 39 milioni di spermatozoi nell'eiaculato, pH di 7,2. Monset è decisamente fertile. Del resto ero tranquillo, ho fatto due figli. Sì, scusatemi, parlavo di Bastian Cudret. Ah, sì, soffre di azzospermia, ovvero l'assenza pressoché totale di spermatozoi. In pratica è sterile. Già. Eccellente, eccellente. Beh, grazie. Però c'è una domanda che mi ronza in testa. Questo laboratorio è specializzato in spermiogrammi o altri? No, 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 è un laboratorio generico, analisi delle urine e prelievi del sangue. Ah, sì? E non poteva essere più semplice fare pipì in una stanzetta? Piuttosto che, non so, darci dentro, come ha elegantemente detto Nadia. E l'ha fatto. Vi lascio. È stata lei a fissare l'appuntamento? Ah, sì. Giusto? Quanto ha intenzione di aspettare? Tegli occhietti. Prego. Aspettare cosa? Se va avanti così la vita le scorerà tra le dita. Si ritroverà come un vecchio strude, l'avvizzito che nessuno vuole mangiare. Nessun raggio verrà a rischiarare le sue giornate tristi e noiose. Signor Varnier, lei è un poeta. Secondo lei, tra noi potrebbe funzionare? Sì, è al momento buono. Bisogna provare, cioè lanciarsi. Coraggio, andiamo. Lei ha ragione. Grazie, avvocato. Ma guarda che carino. Nadia? Sì? Le piacerebbe uscire a cena con me una sera? Cosa? È che io ne sarei veramente lieto. Sì, ma... Ci pensi sopra, eh? Hai sentito? A volte la vita fa davvero schifo. Non dica così, Nadia. Ha anche i suoi lati positivi. No, deve essere brutto morire da giovani. Brava, e lei? L'ha letto? Ah, sì, ma come Nadia. L'ho cominciato, ma non l'ho finito. Si è fermato dove? Quando il protagonista arriva in sanatorio. Che di lei, Mosè? È che l'ho letto nella lingua di Goethe, quindi mi risultava difficile. Però è stato interessante, lo stile è impeccabile. Sì, pronto, come va? Pronto, Paul? Allora, va tutto bene in ufficio, Simone? Cosa? No, Mosè, Mosè. Ma dove si trova? Ha richiamato Mariani per dirgli che la sua richiesta è stata respinta. Sì, 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 ho riletto anche la sua ringa per il canale di VR. Ho fatto qualche modifica, ma poi decide lei. E dov'è adesso, Paul? E sa dove è finita Nadia? È irraggiungibile. Nadia? Mosè è molto preoccupata. Nadia ha assunto la difesa di uno sbirro. La difesa di uno sbirro? Sì. Parliamo della stessa Nadia o...? Sì, sì, ma adesso non ho tempo per spiegarle. Anzi, le passo Nadia. Nadia? Ecco. Pronto, Simone, sì? Come va? Pensa di finire tardi? Non saprei, perché? Se n'è dimenticata, Nadia? Di cosa? Ma della nostra cena, Nadia, la cena. Ah, no, ma... No, affatto, tanto è domani. Avevamo detto l'undici. Per l'appunto, è domani. L'undici è oggi, Nadia. Merda, non ho il tempo di passare da casa. Ma perché deve passare da casa? Beh, per farmi un bagno, per cambiarmi, per... Vuoi tutti i particolari o va bene così? Paul? Nadia? Simone! 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 Qualcuno si sta occupando del bambino? Sta soffocando, soffoca, Simone! Simone! Cavolo! Scusate! Cati gentili, niente parolacce. Mamma, ho detto che ci avresti portato al McDonald's. Qui non hanno neanche i nuggets. Ma è ormai... Nadia? È molto bella. La babysitter ti ha mollato? No, niente fatto. Ci tenevo a cenare tutti insieme. Nadia! Non muovetevi, non ordinate. Nadia! 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 Perché fa così? Non capisco. Che ci fanno qui? Ma tu che cosa vuoi da me? Che va dei tuoi figli? Non riesco proprio a capirlo. Ma no, non ci penso neanche. Io volevo presentarglieli perché sono molto importanti per me. Una parte di me. Quella migliore. Se avessi dei figli vorrei conoscerti. Beh, buona serata con la tua parte migliore. Un caffè, avvocato? Oh! Volentieri, Davide. Grazie mille. Ma lo aspetta di chiamarmi avvocato. Tra colleghi è ridicolo. Avvocato, lei è un maestro per me. Lei è un esempio. Un mentore. Un modello. È decaffinato, sa, per la tachicardia. Allora come è andata la sua serata? Ieri non aveva una cena? Non poteva andare peggio, purtroppo. Mi scusi. Detesto dare spettacolo, ma quando comincio non smetto più. Tranquillo. La ringrazio. Ero a Kunar, Afghanistan. La mia squadra è caduta in un agguato di taloni. È unico sopravvissuto. È la prima volta che viene da lei? È formidabile, formidabile. La prima volta che ha commesso l'errore di omettere delle informazioni, perciò se vuole dei risultati rapidi, le dica tutto. Sì. Tenente Lombard, prego. Sì, ma non c'era prima lei. No, 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 non si preoccupi. Tocca a lei. Ho la brutta abitudine di arrivare sempre in anticipo. È questo che mi ha salvato la vita. Sempre in anticipo. Oklahoma? Ma non sa la geografia. È uno stato l'Oklahoma. Doveva aggiungere la parola siti alla fine. Ok, finita la lezione? Si sieda. No, aspetta, cosa vuoi fare? Una psicologa dà del lei ai pazienti. No, senti, tu resta pure. Se vuoi, io me ne vado. Le ho detto di sedersi. Devo dirle una cosa. Ti ascolto. Che cosa ho detto? Sono a sua disposizione, signor capitano. Scriva. Ieri sera ho invitato a cena una persona a me molto cara. E non è andata come volevo. Si è offesa per un gesto innocente. Non ci siamo mai nemmeno baciati, ma mi presenti lo stesso i tuoi figli. Cosa volevi? Che li prendessi in braccio? O che preparassi una torta? No, 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 no. No, 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 no. Mi spiace, ma così non va bene. Una psicologa non interviene così. Non è una discussione. Si limita ad ascoltare o ad interrompere il paziente con dei... di assenso. Ho cercato di spiegare a questa donna che se le presentavo le persone per me più importanti, i miei figli, è perché anche lei lo è. È stata una... una prova d'amore. Bene, ho finito. Sono cento euro. Sta scherzando, è troppo. Forse. Posso vedere gli appunti? No, segreto professionale. Calma. È roba da pazzi. Mentre parlavo lei ha disegnato un pene. Tu ci vedi? Un uccello? È interessante, perché questo è un test di Rosbash. Di Rosbash, monse. Peccato. Test di Rorschach, Nadia. Sì, di Rorschach. Mi preoccupa, Paul. In effetti bisogna essere forti per sopportare quello che le ha detto il padre di Yannick. Ma io mi stavo riferendo al comportamento che ha con Simon. Lo so, ma a me fa pensare a una cosa, ma non oso dirglielo perché mi troverebbe ridicolo. Spare, tanto peggio di così. Un canguro rosso. Che cosa? Con quel marsupio e i capelli rossi. È come un canguro rosso. È un canguro rosso? Un canguro rosso. Ottima osservazione. Sì, è colto nel segno. Lo tiene addosso 24 ore su 24, come se fosse una gravidanza. Praticamente vive come se fosse incinta. Siamo nella merda, monse. Sono d'accordo, quei due sono in completa osmosi. Sa cosa ha detto l'avvocato Varnier? Si è informato per sapere cosa fare per adottare il bambino con Paul. Cazzo, non ci credo. A un bambino servono un padre e una madre. Ma è una sciocchezza. Che dice, Paul? Beh, non lo sa ancora. Lui le vuole fare una sorpresa. Santo cielo, è veramente assurdo.